I lavoratori in mobilità dell'azienda Cutolo, Acqua e Rionero hanno detto grazie all'assessore regionale al Dipartimento Ambiente, Agatino Mancusi, per la disponibilità dimostrata. L'assessore si è impegnato affinché la Giunta, nel rispetto di quanto la legge regionale prevede, si appresti a decretare la decadenza delle concessioni minerarie attestate ancora in capo alla società Cutolo. Un provvedimento necessario perché tutela l'interesse della Regione, oltre a salvaguardare l'occupazione dei dipendenti dello stabilimento di Rionero, attraverso la riassegnazione della concessione a nuovi soggetti imprenditoriali del comparto Acqua e Minerali. L'auspicio delle maestranze è che il contributo fattivo della Regione e il serio interesse di uno o più soggetti imprenditoriali possano creare i presupposti per la riassunzione di quanti oggi sono fuori dal mondo del lavoro. Grazie a tutti.